Siamo qui alla casa Emmaus di Soveria Mannelli a festeggiare i 100 anni di nonno Giacomo. Nonno Giacomo è un cittadino di Soveria che l'amministrazione di Soveria Mannelli ha voluto ricordare stasera come un evento straordinario che accade di tanto in tanto in tutti i comuni d'Italia. Per l'amministrazione comunale di Soveria è d'uso ormai da più anni andare a festeggiare e a onorare gli anziani che hanno raggiunto i 100 anni. Questa sera per noi non è una formalità ma una partecipazione serena per testimoniare la vita di questo cittadino che è stato amico di tutti, un testimone per quanto riguarda la sua famiglia, per quanto riguarda la sua strada, la sua vita e tutto quello che ci ha insegnato e ci ha lasciato. Grazie a tutti.